io non mi lamento, ho la saldatrice, ho tutta una serie di cose, non mi posso certo lamentare è tutto fatto da me, è un casino, è bellissimo, guarda gli attrezzi che ho e ti dirò, un'altra parte, ho un doppione anche da un'altra parte, quella recensione lì, sempre per i gatti guarda, non te lo consiglio questo c'è la responsabilità, c'è la responsabilità penale che non esiste, tu crei tanti fisici agli altri, se devi andare in galera, ci vai ho anche il paglione per il tiro con l'arco perchè faccio anche tiro con l'arco e ho ruppato è tutto un casino che si vede là dentro hai visto che mi sono fatto anche il segno lì, no? perchè chiaramente non ci sto in modo da poter prendere lì e se la sono fatta lì e portavo su un sacco di spazio qui ci dormono, tre gatti e il cane non ci sono E' un po'...non è che la stia a confrontare Quando mi serve, l'abbasso Ormai devo usare gli occhiali A proposito, ti vedi benissimo Ah si, hai lasciato la portante un po', vero? No, no, se lo inseri ho gli occhi Ah, l'occhio, si si, blocca E ho sentito che non stavi tanto bene Come stai adesso, bene? Si, si, sto meglio Questo fatto mi è accaduto il 27 di febbraio Cioè, non ho niente di fratturato Insomma, ho bisticciato con un pick-up Il pick-up mi è venuto addosso Ero pedone io Allora